non è certo un mistero che i plutocrati del capitale no border e il capitalismo globalizzato che anche chiamo turbo capitalismo per distinguerlo da quello borghese della fase precedente si vede al mio libro minima mercataglia filosofia e capitalismo bene non è una novità che questo nuovo capitalismo miri alla disintegrazione dei ceti medi per tanti motivi il ceto medio borghese ha una sua coscienza infelice quindi non accetta la mercificazione di tutto e ciò entra in contraddizione con un capitalismo che vuole vedere merce ovunque nel financo nell'aria che respiriamo nell'utero delle donne che diventa in affitto ma poi il ceto medio ha una sua indipendenza da che la classe che vive del proprio lavoro e non dipende direttamente dal grande capitale no border per questo una delle tendenze da non trascurare del nostro tempo del turbo capitalismo apolide sradicato e sradicante è la tendenza in forza della quale viene annientato il ceto medio viene annientato il ceto medio e ridotto una nuova plebe come ho cercato di mostrare in storia e coscienza del precariato una nuova plebe che è composta dal vecchio ceto medio in fase di decomposizione e dalla vecchia classe lavoratrice anch'essa in fase di decostruzione il precariato la nuova plebe post moderna del turbo capitalismo sempre più è vincolata per sopravvivere a forme di reddito di cittadinanza reddito universale reddito che diventa una forma di dipendenza dal potere mentre il ceto medio si guadagna da vivere ed è indipendente proprio perché dipende da sé e dal proprio lavoro e quindi ha un alto o un più o meno alto grado di indipendenza e di libertà la nuova classe precarizzata globale il precariato sarà sempre più condannata a vivere di assistenza del tipo reddito di cittadinanza universale reddito di sopravvivenza reddito si può chiamare variamente insomma il punto è questo però che per vivere si dovrà ricevere un reddito di cittadinanza dal potere che in cambio chiederà però fedeltà completa appena il rimuovere immediatamente con un clic la distribuzione del reddito ai soggetti vagamente dissenzienti questo è il passaggio decisivo da un ceto medio indipendente che lavora che vive del proprio lavoro a una nuova plebe post moderna privata di tutto che per vivere deve dipendere da un reddito universale che viene assegnato anche e soprattutto grazie alla fedeltà al regime del potere del turbo capitalismo o neoliberismo apolide che dir si voglia